Ciao a tutti, io sono Andrea Bugari, sono un nuovo di Solidarietà Popolare, ho deciso di provare a fare questo cammino perché amo Castelfidardo, vengo dal mondo del volontariato e della musica, quindi ho sempre visto Castelfidardo come il mio mondo, mi accomuna tantissimo i valori di Solidarietà Popolare e quindi credo di riuscire a vivere ancora meglio l'esperienza di Castelfidardo proprio, perché lo vedo proprio come la mia casa e quindi spero di riuscire a fare quello che mi sono ripromesso. Grazie a tutti